Operazione della Guardia di Finanza di Torino, sgominato un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti, 13 arresti sequestrati, oltre 800 kg di droga, perquisizioni in varie regioni, tra cui il Veneto, il Friuli, il Piemonte e la Puglia. 12 gli arrestati erano già in carcere e sono sospettati di far parte di due distinti associazioni per delinquere finalizzate al traffico e alla commercializzazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, principalmente Ashish. Sono tutti soggetti originari del Marocco, uno dei due gruppi in particolare è organizzato stabilmente con una linea di comando ben delineata, dotata di notevoli risorse, sia strumentali che economiche, capeggiata da un 44enne di nazionalità marocchina che da Torino governava il trasferimento della droga verso i diversi territori e in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove c'era anche uno dei depositi della droga a Pordenone. Il sodalizio aveva ramificazioni anche in Veneto, in particolare nelle province di Venezia e Treviso. Avevano a disposizione molte auto per il trasferimento della droga e del denaro. Il secondo gruppo, capeggiato da un 48enne marocchino, si muoveva invece tra il Piemonte e la Toscana procurandosi la droga in Spagna attraverso l'intermediazione di altri trafficanti di nazionalità cinese. operavano insieme per procurare la droga e trasferirla nei diversi territori. Nel corso delle indagini, in soli quattro mesi, in provincia di Torino, sono stati intercettati e sequestrati circa 460 kg di hashish, oltre a 500 g di cocaina e un chilo di marijuana. Un altro deposito della droga è stato individuato a Leini, in provincia di Torino.